Annalisa Minetti e Ariola Dedai sono grandi atleti affetti da degenerazione tappeto-retinica, retinite pigmentosa in particolare. Che cos'è la retinite pigmentosa? È una malattia genetica della retina che porta a una progressiva degenerazione dei fotorecettori, coni e bastoncelli. All'esordio provoca cecità notturna, difficoltà pertanto a percepire il mondo esterno all'imbrunire e nelle ore notturne, al quale nel tempo si associa una difficoltà anche della visione centrale per un'associata maculopatia quasi sempre presente. Atleti come Annalisa e Ariola ci dimostrano che, pur essendo grave questa malattia, è compatibile con una vita normale, anzi eccezionale, specialmente se si pone attenzione nella diagnosi, se si tiene monitorata la patologia nel tempo e si sostiene, con l'uso di appropriati presidi di lettura e di scrittura, la quotidianità dei soggetti che ne sono affetti. Semplificando, è importante fare una diagnosi precisa che comporti un monitoraggio preciso della patologia attraverso l'esecuzione di campo visivo, florangiografia, escansioni nel tempo dei piani retinici. Questo aiuta il paziente a convivere con la propria difficoltà, a rieducare le parti funzionali della retina con dei sistemi specifici per i povedenti. Malgrado non ci siano delle cure definitive attualmente, la ricerca fa molto in questa direzione per quel che riguarda specialmente l'utilizzo delle cellule staminali e soprattutto di una più raffinata e affinata diagnosi genetica. Anche qui sottolineo l'importanza della diagnosi precoce e dall'assoluta necessità di dare un sostegno a questi pazienti per le modalità con le quali loro devono condurre il loro quotidiano. Non dimenticandoci che i centri di povisione possono sostenere il paziente nel percorso della loro inabilità, accompagnandoli mano a mano nella vita, sostenendoli con questi presidi che aiutano il paziente ad esercitare l'attività residua della loro retina. Grazie 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 Grazie